Ciao ragazzi vi do tre motivi per iniziare a pattinare primo motivo per cui è divertente secondo motivo per cui è liberatorio terzo motivo perché è vario che vuol dire vario? beh è vario perché esistono molte forme di pattinaggio ovvero fitness, freestyle, aggressive, urban, free skate e di per sé posso scegliere la forma che più si addici a me quello che mi piace più fare poi liberatorio che vuol dire liberatorio? beh ragazzi poter pattinare ovunque ti dà un senso di libertà da provare ragazzi ve lo consiglio tantissimo divertente che vuol dire divertente? innanzitutto pattinare con amici è super divertente nelle città fare frischette urbane è una figata pazzesca ma divertente anche nel senso di provare degli sport che già conosciamo basket, calcio con la palla e i pattini cambia tutto e ci si butta via le risate e anche per terra con qualche aduta e poi Loki Loki è una figata mazza e dischetto da provare anche lì super divertente occhi alle culate bene ragazzi vi ho dato tre motivi per cui provare a pattinare ora tocca a te comprare i pattini e seguirmi qui sotto ciao